Sono Francesca Biancofiore, insegno inglese a Luzia Castigliano e Asti. Mi chiamo Rande Federico, insegno musica presso l'Istituto Portorato di Pinerolo e presso il Porro di Pinerolo. Sono Monica De Marco, sono professoressa di fisica presso l'Istituto di istruzione superiore Bodoni. Con un centimetro di TAV, che sarebbero 1.500 euro, come prima cosa, mi viene da pensare a una discussione di base. Se la scuola è pubblica, i finanziamenti devono essere pubblici e nella mia scuola ho avuto modo di vedere che tantissimi ragazzi non possono pagare l'iscrizione da un altro, che forse pochi sanno che si aggira intorno ai 100 euro e ci sono famiglie che non possono commettersi neanche queste. Con un centimetro di TAV, che sono 1.500 euro, sicuramente avremo modo di comprare chitarre per la aula di musica dell'Istituto, saremo in grado di tenerle a disposizione per tutti i ragazzi e avremo per anni una dotazione di strumentazione atta a far rientrare la musica dentro la scuola pubblica. Con un centimetro di TAV, proporrei uno spazio di riflessione e di condivisione di idee sull'adequazione di genere ed educazione sessuale, in particolare in prevenzione delle violenze sessuali e degli abusi. Con 10 centimetri di TAV, che sono 15.000 euro, sicuramente pagherei corsi di aggiornamento per molti docenti che sono da tanto tempo all'interno dell'Istituto e che hanno sicuramente bisogno di sentirsi parte di un progetto educativo, parte di un'organizzazione statale e non semplicemente dei lavoratori sfruttati a cui è impedito di andare in pensione, a cui è impedito il rinnovo contrattuale, a cui è impedito di accedere ai fondi statali. Con 10 centimetri di TAV, ristrutturerai il laboratorio di fisica dove persone con disabilità hanno difficoltà ad entrare, in particolare le persone con disabilità di tipo motorio. Con 10 centimetri di TAV, che sarebbero 15.000 euro, o anche con uno, non importa la quantità, ma con i soldi che in qualche modo sono pensati e dedicati alla TAV in maniera giustissima, piuttosto che al mondo della scuola, che ne ha sempre più bisogno, mi preoccuperai delle infrastrutture. Leggiamo molto spesso di situazioni in cui le scuole sono in un disuso incredibile in ogni ordine, grado, dalle elementari, alle medie e alle superiori, e non si può assolutamente pensare che i ragazzi che vanno a scuola per poter usufruire e poter godere di quella della loro istituzione possano essere in pericolo in qualsiasi forma, per una trama che cade, per un banco che cede, per qualsiasi cosa possa essere un pericolo. E lo stesso vale per tutto il personale della scuola, che in qualche maniera ci vive. Mi sembra decisamente più importante che questo sia dedicato ad edifici pubblici e ci tengo molto a sottolineare che si tratta di pubblica istruzione, perché se pubblica allora dovrebbe necessariamente accedere a questo, cioè a fatti pubblici. Grazie. 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 Grazie.